Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale! Oggi vi saluto così, con una tortiera, un po' di neve e le luci di Natale A parte gli scherzi, ho preferito preparare il primo passaggio per evitarvi attese eterne perché Pignola come sono, ci ho messo una vita e mezza a sistemare tutte queste lucette quindi fidatevi, è stato meglio così Allora, oggi volevo mostrarvi come creare un paesaggio innevato a partire da alcune delle decorazioni dei miei precedenti tutorial Perfetto, iniziamo subito Allora, piccola nota Io ho inserito anche dei materiali di riciclo Ovviamente, se non vi piace l'idea, potete usare centri tavola, cestini insomma, cose più adatte questo è solo un esempio per utilizzare cose che si hanno in casa Allora, come potete vedere, ripeto ho preso una pirofila in ceramica, quelle classiche da crostata ci ho inserito dentro a più giri la catena luminosa di lucette l'ho coperta con l'ovatta bianca a mo' di neve e ho fatto uscire le lucette Come succede sempre, credo anche a voi oggi, in tutta casa, erano introvabili le catene corte cioè, introvabili comunque, vabbè ho utilizzato una che è lunga un chilometro diciamo così però, vabbè, a male estreme, estremi rimedi se capita anche a voi io l'ho fatta uscire a destra e a sinistra e l'ho passata sempre con l'ovatta in questo modo per nascondere il filo e diciamo che può continuare la decorazione anche sul mobile perfetto allora, iniziamo subito vi servono due calici da vino, acqua, quello che volete vi serve la calzetta tubolare io sto utilizzando circa 5 cm poi dopo dovrete adattarlo alla misura del vostro calice andiamo a vestirlo in questo modo poi ho preparato già un fiocchetto piccolino che andrò ad incollare sul davanti e chiudo il tutto con un bottoncino che vado sempre ad incollare perfetto ora riempio il calice di sale grosso che fa effetto ghiaccio inserisco all'interno il mio lumino ecco, seconda nota mi raccomando in questo caso qui non utilizzate mai candele galleggianti acqua o quant'altro perché siamo in presenza della catena luminosa che va corrente quindi evitiamo ecco, piccola nota poi, allora io ho preparato già anche il secondo calice che è leggermente più grande e in abbinata di colori li posiziono all'interno della mia pirofila che funge appunto da centro tavola diciamo così perfetto e ora chi meglio di Martino il pupazzino poteva trovare casa qui eccolo qua posiziono anche lui ovviamente mi sono tenuta in tinta di colori seconda decorazione vi ricordate le casette di pannolenci dell'anno scorso? ecco, ne ho preparata sempre una in tinta leggermente un po' più imbottita perché così almeno ha un po' più di sostegno e inserisco anche lei all'interno del mio paesaggio ecco qua che poverina non si vede tanto bene la mettiamo posizionata così perfetto meglio che la rigiro portate pazienza ecco qua bene, poi per terminare le decorazioni capita anche a voi di avere cose in giro per casa soprattutto natalizie pigne, palline non si sa mai bene cosa fare ecco, questa potrebbe essere l'occasione giusta per utilizzarle ci si può sbizzarrire con pigne palline di Natale ali d'angelo e chi più ne ha più ne metta e potete riempire lo spazio rimanente con tutto quello che vi passa per la testa ecco qua e direi che ci siamo semplice veloce beh, oddio in questo caso per forza senza cucire spero che vi sia piaciuta la mia idea che vi possa essere da spunto per crearne uno anche voi grazie mille per aver guardato il video ciao a tutti e alla prossima grazie mille per aver guardato il video